Sì, infatti, è così, è bello, è piacevole. Grazie, ciao. Ciao ragazzi, grazie, sono stati proprio bravi, iscritti e bravi. Ciao. Grazie, ciao. Un bacio da con voi, davanti a vedere. Un salimento. Un gammissimo. Per il ballo, per il dritto. Benissimo, fantastico, molto bene. Biglietti. Ecco, ecco, perché mi sono piaciuti, perché non avete fatto il trattenimento, avete fatto l'animazione, avete fatto il trattenimento, ma quando era un momento lo salavamo, più discretamente, poi si andava su. Perfettare l'altro, mi dice più, è una canzone.